Buongiorno stamattina sono andando a scuola, infatti mi vedete truccata appena tutto fresco e ho messo questo rosetto bellissimo che non c'entra niente con l'inverno ma noi siamo ancora in inverno quindi by the way, ho messo questa felpa militare che mi piace tantissimo e sono andando appunto a scuola sono le 7 precisamente e ho finito adesso di esportare il video e l'ho salvato così stasera torno e lo carico perché oggi vado a casa della Jordi, quindi è per questo che faccio il vlog perché comunque a scuola non vi riprenderò niente perché la classe non è quella dell'altro anno, sono tutte persone nuove e quindi l'altro anno lo sapevano cosa facevo e tutto quanto quindi riprendere in classe era la routine invece adesso è un po' più, aspetta un attimo magari tra un pochino e alcuni già lo sanno però così per dire e infatti appena esco, tanto oggi esco a luna quindi facciamo 5 ore, sto guardandola perché c'è l'orario però passeranno molto in fretta e quindi ci rivedremo direttamente a luna e oggi mi vado a mettere anche questo orologio così è un po' abbinato al coso, al rossetto, guardate che figo è non lo metto a fuoco cacchio, beh comunque è una figata questo orologio, mi piace un botto e niente quindi detto so, io adesso vado e ci vediamo oggi pomeriggio, quando? oggi pomeriggio, prima di pranzo, quando siamo? ciao siamo uscite, guardate chi c'è, Mimmo e Sisi Sisi, di ciao alla telecamera non ti piace, non ti piace Sisi? a te ti piace Mimmo? ti piace la telecamera eh? e siamo qui a vedere il GF a casa della Jordi stanno anche truccando quindi figata Sisi, Sisi ma ti dico ciao io, che cerchi? guardate il mio trucco ecco Desi lì e stiamo cucinando si è a casa della Jordi dopo gli faccio telecamera sua e niente quindi siamo qua per fare i capelli a Desi guardate che capite adesso facciamo il primo e il dopo ecco eccolo vuoi vedere il trucco che ti ho fatto wow, non c'è niente da qua che c'è Giordana? Giorgiana non ti sento da qui qui stiamo facendo la pasta e qui abbiamo mischiato pesto e crema al formaggio e Giordano che c'è ma questo è per tutti e tre, scusa no, non c'è Giordano eh di ciao 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 wow e dai ciao ciao Mimmo ciao e niente e vi farei vedere il giardino ma è tipo molto enorme e perché io? ah no, si sapeva di oddio ma che carina è una chiocciola ok scusate una conchiglia aspetta che ho accarezzato i cani io sono molto fissata con l'igiene è troppo dura è troppo salata mi sa l'ha fatta di silenzio ma è vero Giordano si ti giuro Giordano sentila comunque detto questo io vi saluto ci vediamo quando sarà tutto pronto eccoci qua tutto pronto sono le tre quasi Giordi ma no no sono brutta ma sei anche sfocata in questo momento perché? ecco adesso guarda adesso che brava donnina beata che sei la sposa Giordana chi è? sei tu fai delle tue capelli in questo momento eccoli che io da un po' me li vado a rifare così no molto male ma male di un male che fa solo male Giordano ha visto che è povera ci ha dato la carta igienica no non è povera scherzo però vedete che è carina è una nuova esperienza io sono povera dai ciao ciao mi hai messo pure le cose parmigiano meravigiano? no siamo nella camera oh pazza siamo nella camera di Manila che è la sorella di Giordi guarda tutta rossa red pesce oh c'è una bilancia ma io non usarla e stiamo guardando il GF oh Desire tranquilla sto riprendendo la televisione che hanno fatto il tutorial su Mariana quindi adesso riprenderemo tutti i passaggi dei capelli di Giordano grazie così ti giudicheremo tutti no non è bello comunque nel mentre abbiamo mangiato sono le tre e venti e basta questo ciò sono tutta lucida madre santa poi siamo al supermercato a scoprire le cose del prezzo mi hanno fermato delle ragazze io dico spazio della spesa scontate qui no vabbè assurdo è il posto se mai mi chiederete quando ho incontrato le fan cioè il posto più strano ecco quello tra l'altro ragazzi cioè notare che io qua mi potrei mettere a fare i video guardate qui ciao eccoci primo passaggio deco venti volumi dai riprendo solo questa ciocca tranquilla e poi sfumo col pennellino di Frank Provo niente pubblicità eh è una sorta di balayage sì è il balayage no vabbè quanto sono brava oggi ho fatto una piegasia raga ma perché non le hai fatta vedere dovete proprio capire che sono stata bravissima addirittura col phone e la spazzola infatti io vedevo Giovanna che mi guardava mi faceva brava brava quindi brava Giovanna brava eccoci ragazzi guardate è tutto pronto questi se li volete aliexpress vero? sì desi prime impressioni come ti sembra? eh mi vedo come vorresti? perché ce l'hai un biondo penaltino ma io le passi sul biondo suo? ah sì pazza allora se mi chiedete dove l'ha fatti io l'ho fatti della stessa mia casomai te l'hai fatta quindi andate sul mio instagram e la trovate taggata ciao vabbè niente ora ti lasciamo poi vediamo il risultato grazie ecco qui il risultato finale no non è il risultato finale della deco sì stavamo al passaggio deco dai giordana sei proprio esaurita è l'aria giusto a tutti che sei esaurita ecco qui sei pronta per diventare biondissima sì questa l'ha facendo la ceretta oddio andrea che fa la ceretta povera mariana comunque sai che quando facciamo il video del gf parliamo sempre di te grazie perché la tua amica tassia io sono fan di uno ragazzo ha detto salutami Lila ciao chi è ciao ciao l'ho salutato e niente quindi siamo qui io sto sul letto non so che fare io sono fan di mosetti power oh farò rivedere il gesto che hai fatto fatti vedere che ti sei cotta al dito cotta al dito mentre ti fa la decolorazione ragazzi guardate povera stellina dai un bacetto no però non ci hai visto ferma ma ti fa male? si è combinato oddio si apre si certo dai andiamo che doveva fai pop corn me l'ho fatto male ciao non mi riprendi 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 riprendi l'aria intanto io posso cancellare ma che sei stupida guardate Giordano mi ha fatto le tricce che brava è intanto si sto lavando i capelli non mi riprendi non mi riprendi non mi riprendi Giordano io ti avevo detto che non era una buona idea ma dove ti facevo lavare? no va bene dai siamo quasi niente sono fuggata comunque guardate sono proprio belle eccole ecco qua oh no mi ho fatto si da me aspetta gli hai tolto bene tutto la deco mi raccomando si ta stupisina oh merda non hai fatto no va bene e trovo lo so no ci penso io si gli devo ancora fare il colore c'è ragione scusa vai come arancione come sei zingarona è arancione è arancione no è un trucco un flick in aria oh il contouring è arancione andiamo andiamo e ora colore questo qui che è 9.02 si leggerà eccolo qui oh ciao ciao adesso stiamo mettendo il tonalizzante guardate che colore sta venendo le faccio vedere così una sorta di strano grigio argento fichissimo parla lei guardate oh guarda questa della camera è un colore proprio vibrante un colore vibrante praticamente gli stiamo dando tutti i nostri soldi a mediaset extra guarda qua mi ha lasciato un cumulo no però si è creato tu io entro ma ma pubblicano se c'hai il coraggio queste cose che fai certo che ce l'ho come c'ho il coraggio di metterti a te in pantaloncini dai mi sembro non lo so fantastico c'è stato qualche piccolo inconveniente sono quasi le 8 siamo ancora qua lì si è la seconda tinta ma ti taglio e dobbiamo andare via con l'auto hashtag poraccio non c'è la macchina poraccio tu direi as no ti senti un po' in colpa? no mai voglio che state con me tutta la notte un madruc che c'è? oddio che dè? non so basta che dè si mi ha messo lo smanto? denis denis era allora praticamente abbiamo finito gliela anche un po' tagliati ma così non si vede niente quindi forse così ma neanche bello non si vede niente però beh si vede con colore bello freddo freddo guardatemi amiche questo ormai è adesso guarda la maglietta è proprio fashion comunque torchi eh? non c'è una molestina quindi questo è tutto noi vi salutiamo perché adesso dove andrà con l'auto ma di chi è questo video? ah 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 saluta ciao grazie ciao amiglietti per averci seguito in questa avventura grazie ciao 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 ciao